Professor Giulio Sapelli, in che modo Etica e Ambiente intervengono nel processo di crescita di un'impresa e quindi di un paese? Etica e Ambiente, innanzitutto realizzare un ambiente, come si potrebbe dire, costruito da un atteggiamento etico, è frutto di una sinergia tra chi? Tra il cittadino, che è un consumatore, ma nello stesso tempo può essere un lavoratore o un imprenditore. E da questa sinergia, perché l'imprenditore deve capire che il profitto è un elemento di regolazione, il fine vero dell'impresa è aumentare la qualità della vita, creare un ambiente sostenibile, nel senso che non distruggi le risorse naturali, crei la possibilità per il loro sviluppo, possibilmente per la loro riproduzione, se non usi materie prime che sono estratte. Nello stesso tempo il consumatore, qui entra però anche la politica dell'impresa, non dimentichiamo che parliamo di cose che il consumatore deve essere anche indotto a fare con una moral suasion. Io dico sempre che ci sono due azioni da fare, una di tipo economico aumentando il reddito delle persone, questo è il problema di fondo, perché è un comportamento virtuoso verso prodotti sostenibili che quindi vengono premiati, aumenta il profitto dell'impresa, aumenta il benessere del consumatore, ma deve avere le condizioni. E poi naturalmente questo secondo me migliora le virtù civili anche, che rispettare l'ambiente vuol dire è la prima virtù civile che uno deve avere, non distruggere le cose che hai attorno a te, rispetti la tradizione e nello stesso tempo lavori per i giovani. Quindi c'è un gran lavoro da fare per l'impresa, per il cittadino e anche per i lavoratori. Grazie. Grazie a lei.